Si chiamano Zoe e Lucy, provengono dalla contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord, e hanno una malattia piuttosto rara che colpisce ogni persona, ogni due milioni al mondo. E' stata diagnosticata troppo tardi, infatti soffrono di fibrodisplasia ossificante progressiva, riassunta con l'acronimo di FOAP, che causa la formazione di ossa all'interno dei muscoli, legamenti tendini, articolazioni e altri tessuti connettivi. Nel giorno, o meno l'uno, termine Zoe e Lou, potranno avere gravissimi problemi di deambulazione, non potranno più camminare, la loro patologia non limiterà solo i movimenti, ma causerà già da anni problemi alle pratture, anche con cadute piuttosto violente, ma anche con traumi più banali. Zoe è costretta infatti a camminare già con le stampelle, mentre Lucy ha intenzione di mettere su famiglia, ma vuole adottare un bambino con fidanzato e il futuro panico, perché c'è la possibilità del 50% circa che i figli che vanno a nascere possono avere questa rarissima malattia, la fibrodisplasia ossificante progressiva, assunta con l'acronimo di FOAP. Grazie a tutti e un saluto e a presto.